Giorgetti, oggi avete presentato una proposta di legge sul calcio. Qual è il senso della vostra iniziativa? Il senso che le società di calcio sono anche dei tifosi che in qualche modo devono essere coinvolti nelle società in modo che li sentano proprio come loro. Noi crediamo che in questo modo si riporteranno le famiglie negli stadi e in questo modo si eviteranno anche dei fenomeni che talvolta sono assolutamente desigevoli per quanto riguarda la gestione proprio delle società sportive nel traffico dei calciatori. Questa proposta che parte da un'iniziativa dell'associazione Salviamo il Calcio abbiamo raccolto già più di 40 firme da parte dei colleghi di quasi tutti i gruppi politici e speriamo che nei prossimi giorni altri si raggiungeranno. È una provocazione che speriamo salutare per aprire un dibattito sul futuro del calcio in Italia.